E che c'è qua? Bella a tutti dal vostro Gabbo man, siamo tornati su PES 2016 perché se alla scorsa puntata delle divisioni stavo in divisione 9, adesso sono in D8, devo accumulare punti per vincere il prima possibile la divisione. Questo è il Liverpool FC, allenatore Sgama, no, Gama, c'ha Tevez, Gervinio, Hazard, Matuidi, Mascherano, Chamberlain, Carval, Dede, Caila, Spiliqueta e Bekovic. In panchina c'ha Totti, Ronaldo e Kieran Gibbs che non so per niente male, quindi insomma non ho capito perché questo non fa giocare Ronaldo, vabbè, comunque sia, consigli del gioco ordinare ai giocatori di passarti la palla. Guarda, se stavamo nella vita reale e mi devo far passare la palla, potete capire quello che combino, li mando tutti a fancu, faccio un bordello. Qua invece ci hanno dedicato un tasto. Allora, pressing veloce che K, ah, sì, ok, tieni premuto R1 mentre premi X. Ricorda però che un giocatore in corsa ha più difficoltà a girarsi, perciò è più facile che gliela pizza qualcuno. Detto questo, io direi oggi di cominciare la partita dall'inizio, perché è una vita che non lo faccio, basta reggete il Gabbone. Eccolo qua, parto immediatamente ragazzi, voglio il gol immediato. Philippe Lam, Robben, passaggi rapidi, ammazza che è imbucata. Iaia Turri, oh, questa è buona, oddio, tiro, parata, oh, eh, eccolo. Mo sentivo, incredibile, subito 1-0 per il Gabbone, ma se passa di corsa un'altra azione oggi tutto rapido. Voglio fare un altro gol, guarda che passaggi, lì ho messi, me so smarcato, entro quasi in area di rigore, dagli piano piano, faccio il crossettino, la capoccia di Ronaldo. 2-0, ma oggi sto un cattivito come le belve. Passiamo un'altra azione perché voglio il terzo, devo fare un bordello, no, questo mi recupera il possesso della palla, aiuto Cristiano Ronaldo alla fine l'ha messo, calcio d'angolo. Mi pareva strano che non lo metteva ragazzi, però va bene così. Allora, dal calcio d'angolo questo parte, cerca la capoccia, mamma mia, butta sta palla. Me la so vista brutta per un attimo. Passiamo un'altra azione però perché io voglio assolutamente il 3-0, 14 minuti del gioco, Cristiano Ronaldo taglia corciava attore, che cazzo di parata che mi ha fatto questo. E va bene, ok, pure Bekovic comunque è un bel portierino, eh. Schweinsteiger da calcio d'angolo, ecco che carico a doppia ripresa, ho fatto una schifezza, c'è bravo uguale. Mamma mia, ammo me, c'è mancato poco, eh. Volevo il 3-0, se passa un'altra azione però perché questo pure gioca abbastanza rapido. Ecco il passaggio per Delph, questo cerca un'imbucata sicuramente. Il cross, no, te prego, te prego. Ma fattor 2-1, facciamo attenzione, se passa un'altra azione, voglio il 3-1, dai è così, forza, passaggi rapidi. Robben, immediato per Ronaldo, ancora, un'altra imbucata lì ho messi, guarda la cattiveria di Messi, il tiro di Messi, mamma mia. Quando me ripartono così in contropiede, guarda, so una cosa incredibile. Passo ancora un'altra azione, bello sto lancio però è un po' a lungo, me sa, vediamo se ci arrivo con Ronaldo. Oh, mamma mia, grazia di bestia Cristiano Ronaldo, ancora il tiro! Il tiro a Phil De Palo, stavolta ciò l'ho fatta. Comunque sia, dai, 3-1, continuo ad attaccare perché non è che mi fermo qua, voglio un altro gol, quindi aria e roba, la cattiveria di Roma. Oh, non riescono a fermarlo, li ho messi ancora, aria di rigore, il tiro! Questo se starà un cazzo come una bestia perché ogni tiro che faccio oggi è un gol. Passa un'altra azione, Matuidi, Asara ancora, 1-2 con Matuidi, vediamo se va al cross, il cross arriva, cerca la capoccia! Bella parata del Buffon e, ragazzi, guardate come spazzo velocemente. Allora, se riparte con l'azione di impostazione, forse la trasformo in contropiede, li ho messi, eccolo qua! Se ne va sulla fascia sinistra del campo, è finito quasi il primo tempo, ma io continuo, cerco il tacco, questa è mia. Voglio il gol del 4-1, no, 4-1 già ho fatto, ho perso il conto, 5-1, eccolo, forse il cross, forse Robben, vediamo che succede, recupero la palla. Mamma mia, oh, oh, mamma mia, il tiro, il tiro me l'ha murato, mannaggia quel porco, però guardate ragazzi, ancora attacco e insisto. Pogba, il cross, mamma mia! Sarebbe stato un bel gol. Passiamo un'altra azione, la velocità Cristiano Ronaldo, che razza deciavatta, ci ha messo dentro. È una belva, oggi in Sevilla, si passa ancora un'altra azione, però a questo me sa che sta a far furbetto ragazzi, perché prima non c'era manco un filo di lag, e adesso improvvisamente ha cominciato una lag incredibile. Io non riesco a fare un passaggio, non riesco a prendere i giocatori, guarda che roba. E lui fa tutti i passaggi di prima senza problemi. A me queste cose sinceramente me danno un pochino fastidio, perché non è così che se gioca, a sto punto abbandona la partita. Allora, questo ci riprova, sempre con la laggerella, cerca la capoccia, guarda, non faccio un tempo neanche a fare i passaggi ragazzi, cioè è una cosa incredibile. Passo ancora un'altra azione, guardate, carico il passaggio, ci mette tre secondi prima che la passa. Guarda, guarda che roba, qua. Non riesco più a fancazzo, mo' se ne fa un altro, sto rincoglionito, è proprio il caso di dirlo, scusate eh. Allora, mi sta a fare un cazzà. Passo un'altra azione, mo' cerco ancora un contro, piede con roba, ne vediamo che succede, forse io lo faccio. Dai, novantesimo minuto, eccolo qua, cerco il passaggio al centro, questo è un tiro e in gol. Che cazzo, è la lagga del merda, però l'ho fatto. Ragazzi, così comunque, per fortuna che sta partita sta avvolge al termine, guarda, perché mi danno fastidio a me queste cose. Non si può giocare così, 6 a 1 per il Gabbone, anche perché la partita era bella cannata, 15 tiri a 11, 8 tiri a 7, Ronaldo migliore in campo, direi di facce un'altra partitina. Allora, vediamo questo chi c'ha. Messi, la cazzette, la fregnette, la Pisele, no, Neymar, Nainggolan, Alaba, Luiz Gustavo, Kurzawa, Pichet, Silva, Albiol e Neuer, me coglioni. Oh, c'ha una squadra di tutto rispetto, c'ha Sarà, c'ha Quadrato, c'ha Marchigno, c'ha Dibbala, c'ha Passo, porca puttana. Tocca a fare attenzione perché pure lui si difende bene. Il suo allenatore è Saez, questo si chiama Cartel37. Consigli del gioco scatto? Cioè, praticamente, vabbè, se non sappiamo fare lo scatto su Pes è grave, eh, se preme solo R1, semplicemente, certe volte danno dei consigli che è meglio che evitassero. Allora, andiamo avanti quest'altro e cambiare il pisello che controlli, eh, non se, no, il giocatore che controlli, con L1. Va bene così, controlliamo un pisello solo, sarebbe una cosa, vabbè. Allora, ancora una volta, a sto giro però, con la regia del Gabone, io direi di passare subito un'azione di quelle esagerate. Eccolo, vado immediatamente. Cristiano Ronaldo, Robben sulla fascia, voglio vincere pure questa, ragazzi. La divisione 7 è mia, me lo sento, me lo sento, ma guarda che perdo. Allora, ecco che recupero il possesso della palla, Yaya Dure, passaggio per Alaba sulla fascia. Me ne vado con la velocità della luce, cerco passaggi però perché questo è chiuso. Forse Cristiano Ronaldo, un passaggio, Robben il tiro! Mamma mia! Fuori gioco, ma Robben era regolare, l'immortacci tuo, vabbè che esci da fuori, eh. Se passa un'altra azione perché non mi arrendo, naturalmente voglio il gol dell'1-0. Bello lo scambio, rapido, 1-2, ancora Robben, cerco il cross in mezzo, ma il portiere è più furbo e para senza problemi. Continua la cattiveria del Gabone, cerco un capoccio, no un capoccione, vabbè, un tiro, un porta, vabbè. Passiamo ancora un'altra azione però perché qua se spregano le azioni, ragazzi, io devo assolutamente vince. Alaba recupero il possesso della palla, cerco bello sto cross, il tiro, madonna, palo, palo! E che cazzo? È uscita, manco angolo. Passiamo ancora un'altra azione, ce la farò fa gol oggi, 1-2, guarda che cazzo te palla che mi ha perso sto rincoglionito. Parte incontro piede della madonna, no, non mi dì che mi segni al primo tiro perché guarda faccio, faccio un bordello. Ma guarda che cazzo, ce la buttata che mannaggia poi dici che uno non tira bestemmi a casaccio. Fammi sta buono che stiamo a Pasqua. Allora ce riprovo ancora un altro tiro, mannaggia, questa la perdo ragazzi, se continua così e non butto le palle in rete, questa la perdo. Cazzo! Ancora, ce riprovo, lì ho messi, guarda come mi giro, forse entro nella rete rigore e non mi dà manco la possibilità di tirare. Questo è calcio d'angolo. Riordiniamo le idee, stiamo se boni, stiamo se calmi, voglio fa gol. Schweinsteiga da calcio d'angolo, ecco la capoccia di Robben, forse! Ha parato pure questa, ma ha rotto, li coglioni, ma ha rotto, ma guarda che culo che deve avere. Passo ancora un'altra azione, questo è un tiro in gol, non ce posso credere. Ancora li ho messi, lo scavetto, mamma mia, poteva essere un tiro al volo vetturee, questo riparte in contropiede. Mannaggia quel porco, guarda che cazzo da storie. Chiudi tutto quanto che la cazzetta in se ferma, corre troppo, la mette in mezzo, mamma mia. Bellissima la chiusura per fortuna, ma la socca la vada ragazzi, ma qua se mette male. Passiamo un'altra azione, 80 minuti, bello recupero della palla. Messi ancora, passaggi rapidi, Ture, passaggio, Messi, Ture, tiro! Eccolo, mamma mia, stavo a rischiare di perdere. Se passa un'altra azione, voglio assolutamente il gol del 2 a 1, perché penso di averlo meritato. Ariel Robben ancora, e questo come cazzo, è scivolato a casaccio, non ce posso credere ragazzi miei, ma che cazzo. Riparte in contropiede, guarda che roba, guarda che tu, questo al novantesimo mi fa due tiri e due golli, ma in cazzo come una belfa. Butta via, che cazzo hai fatto? Che cazzo? No, non ce credo. Ma li mortacci tua, di tu madre, di tu zia, di tu nonna, ma non ce posso credere ragazzi. Cioè ho perso 2 a 1, io voglio andare a guardare i tiri in porta. 9 tiri a 5, 2 tiri a 2, questo ha vinto 2 a 1. Ragazzi se vi è piaciuto mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Non ce posso credere sto rosicacco come le bestie. Cioè ma questo è FIFA e PES, non l'ho capito. E vabbè, questo è il calcio ragazzi miei, che cazzo tocca fa? Non mi resta che darvi un appuntamento alla prossima con un nuovo video di PES 2016. Ergabone vi saluta, bella a tutti. Ciao. Ciao.